Un'ultima domanda politica in questo caso e fuori da questo argomento a Teresa Bellanova come esponente di Italia Viva sulla giustizia e cioè poco fa il segretario del PD Letta ha detto che il referendum è lo strumento sbagliato per la riforma della giustizia e quindi anche in polemica con un pezzo del suo partito oltre che con Salvini che ha appoggiato il referendum dei radicali. Italia Viva, lei che ne pensa? Il referendum è sbagliato o ostacola il raggiungimento di un accordo politico sulla riforma? Guardi le rispondo in questo modo, in questo paese c'è o non c'è un problema legato alla giustizia? Legato anche alla credibilità del sistema giustizia. Allora se c'è questo problema non ci dividiamo referendum sì o referendum no, dimostriamo di essere capaci di fare in Parlamento. Se in Parlamento non si è in grado di dare le risposte che servono al paese, a questo punto tutti gli strumenti possono diventare strumenti utili. Come la traduciamo? Ma la traduciamo secondo me che chi propone il referendum e mi avviso allontana la riforma della cartabia e non l'avvicina con tutte poi le obiezioni che si possono fare a quella riforma. Secondo, io ho l'impressione che da tempo il referendum, non tanto da parte dei radicali che fanno i radicali, ma da parte di molti partiti, sia uno strumento che viene usato per altri fini rispetto a quelli che sono affrontati come merito. Allora ci dobbiamo fermare ma volete... Allora ci dobbiamo fermare ma volete...